70 ettari di natura incontaminata, 18 buche, una country house e un progetto già pronto per realizzare un vero e proprio centro benessere. Il milianico Golf Country Club di Contrada Cerreto, un fiore all'occhiello per tutti gli appassionati abruzzesi e non solo il più grande della regione, con un passato glorioso ma che si trova a vivere un momento di oggettiva fatica. Anche questa struttura, come tante, porta addosso ancora le scorie della pandemia. L'associazione sportiva milianico Golf Country Club ha cominciato a vivere una forte sofferenza, tanto da avere grossi problemi con i fornitori e da novembre a non versare con regolarità i contributi ai 15 dipendenti. Aspetto questo che ha indotto l'amministrazione comunale e proprietaria della struttura a far decadere la concessione, aprendo contestualmente un nuovo bando di concessione temporanea che scade sabato prossimo per non essere costretti a chiudere in attesa di avviare un nuovo bando di concessione ventennale. La situazione è non semplice, non era un problema del quale avremmo fatto volentieri a meno, però è una cosa che gestiremo come tutte le altre. Mi sento di dire che la nostra principale preoccupazione erano i dipendenti, ma insomma mediante la clausola sociale messa in convenzione il nuovo soggetto è tenuto ad assumere i dipendenti precedenti, ma aggiungo un pezzo. Secondo me lo farà molto volentieri, perché gestire un campo da golf lo fanno persone iper specializzate, quindi sarà naturale proseguire in questa direzione. Abbiamo avuto modo di parlare con diversi soggetti interessati, spero che tutti facciano la migliore proposta possibile, ovviamente che sono sicuro che vincerà il migliore. Questa è una struttura, come dico spesso, insomma il campo da golf di Milianico, ma in realtà è il campo da golf di Abruzzo e non solo, è una struttura molto utilizzata, ha molti soci, molti turisti vengono con Milianico a giocare a golf, quindi è nostro interesse che si faccia il miglior lavoro possibile. Con una nuova gestione, molti soci che al momento tentennano potrebbero tornare a iscriversi? Presumo proprio di sì, anzi conoscendo un po' la psicologia del golfista, penso che ci sono diversi soci che non vedono l'ora di tornare anche in una situazione di stabilità, perché insomma è inevitabile che ci sia qualche dissapore, qualche problema. In fine conti non ci dimentichiamo che quello è un circolo, cioè un luogo in cui ci si va anche un po' a rilassare. Questi problemi hanno creato qualche dissapore tra i soci, mi auguro che saranno tutti quanti risolti in brevissimo tempo e che anzi la base dei soci aumenti nel tempo.